Buongiorno, sono la signora Maria Benedetta, ci dica un pochino che problemi aveva? Allora, soffrivo di occhio secco da circa tre anni, tra alti e bassi sono stata da tantissimi oculisti e avevo una farmacia di colliri, gel, creme, di tutto un po'. Fino a quando ho avuto una crisi fortissima verso agosto, nella disperazione su internet fortunatamente ho trovato il nome del dottor Orione che mi ha cambiato totalmente la vita perché ero disperata, non riuscivo ad tenere gli occhi aperti, stavo sempre a buio, non andavo più in palestra, non lavoravo, non guardavo la televisione, è una vita invalidante. Grazie al dottor Orione, a Matteo che sono stati veramente delle persone, a parte dei grandi professionisti, ma anche a livello umano mi hanno supportato e adesso riesco a fare una vita normale, normalissima. Io vi ringrazierò sempre, tutta la vita. Abbiamo fatto quattro sedute di luce pulsata con radiofrequenza, abbiamo modificato un po' la terapia, abbiamo toccato quasi tutto quello che è la prima, adesso direi che la situazione è buona. Sì dottore, grazie mille, adesso faccio una vita normale, normalissima, sto mettendo solo la ciclosporina, non metto più niente ed è ritornata la vita che facevo prima. Grazie ancora dottore. Grazie a lei.